scusate avevo lasciato la scritta avete visto da voi c'è questo è il numero 4 valente con francesco carino e ora mi hai tirato il canapio guardi ma e con questo momento iniziato il canapo i due canapie andiamo a cantinoghi allora ripetiamo una per tutti cebaziano murtas e un amore dino pezzi tiepolo rocco vetti valente buonurvesu francesco aria volpino antonio francesco mula tale quale federico fabbri di ricorso antinadee con mattia chiavassa c'è bene perché si grazie a tutti ok sta entrando una per tutti è la volta di un amore con antinadee con antinadee dietro c'è girato il numero 3 numero 4 e dietro, scusate, Valente, si infila ora Caria Andrea Caramassi ha il debutto per queste corse di addestramento del protocollo del vino di Parisiano uno dei più apprezzati al momento, una bella soddisfazione per lui ha avuto già un modo di chiedere ora c'è dietro tiepolo brava brava una per tutti si deve infilare ci sono tutti gli amici sti uguali, sai che non ci vuole bene ecco lì ecco lì e in giro in testa non vedo, non mi venivano scosti i maglietti quando passa ve lo dico eh guarda ieri Roberto ora passa in testa tale e quale tale e quale era il numero 2 davanti a Tiepolo era il numero 2 ha fatto bello lo ho messo in giro in testa bene questo invece tale e quale se ho un po' sbagliato si, si, tale e quale con Federico Fabio seguo sempre Rocco Betti allora era oppra Rocco Betti dietro c'era Mattia Chiavasso mentre riparte anche, eccolo qua, guarda riparte anche tale e quale ha preso là la ducata tutto fa per imparare questo invece è dovrebbe essere Caria questa è la curva il casato no è Mula o Volpino dietro di lui quel 4 Francesco Caria questo invece è Caria? sì, Francesco Caria ha letto buono il peso bellino lasciando tutti i giubbottini uguali ci riusco mai bene, mi sa che ha detto tutto abbiamo visto una bella scappare di Tiepolo no e non l'ho registrato accideva me ne scordo sempre tutto pronto, tutto fatto tutto pronto, tutto fatto bene, mentre vediamo uscire mi aspettiamo la prossima batteria ciao 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 grazie